Ciao a tutti ragazzi, oggi vi farò vedere come applicare in due modi gli stickers per unghie. Ci serviranno due smalti trasparenti, uno a gel e l'altro ad asciugatore rapido. Poi in questo caso come me avrete una ruota, almeno io ho una ruota, con dei cuoricini semplici, mi sa che sono in plastica, da applicare sulle unghie però senza adesivo. Invece questi sono due foglietti di plastica con sopra appiccicati degli stickers che sotto hanno l'adesivo. Allora, iniziamo mettendo lo smalto trasparente a gel sulla nostra unghia. Dopo prendete il vostro cuoricino o la vostra sagoma, quello che potrete attaccare sulle unghie, la andate a prendere. Che pizza io non riesco a prendere. Ok, la prendete e andate, magari anche con l'aiuto di una pinzetta, la andate a applicare il vostro cuoricino. Visto che non riuscirete a, non si manterrà a lungo perché poi sicura ve lo vorrete stuzzicare, sentite me, andiamo a prendere il gel, no, il gel, il coso trasparente ad asfugatore rapido e a passarlo sopra il cuoricino in modo che fissi. E il risultato sarà questo. Dopo potrete aggiungere altre cose. Io non avevo tanto spazio. Ok, secondo metodo invece, prendiamo i nostri appiccichini e andiamo a prenderne uno e con leggerezza l'ho applicato sull'unghia. Dopo se volete che anche l'unghia un po' brilli potete andare a mettere anche uno smalto trasparente a gel o ad asciugatore rapido, ho dato sempre un smalto trasparente oppure uno smalto normalissimo trasparente. Poi invece per questi qui che sono più piani, andate a prendere i vostri, i vostri cossi, uff, ma tu, mi si è attaccato qui. Se ha girato il foglio non lo riuscivo a prendere. Ok. Vedete anche caso. Perfetto. Anche a questo potete aggiungerci uno smalto trasparente. Oppure se volete, anche vale per questo, un tocco di colore, potete metterlo sotto uno smalto tipo celeste, uno smalto colorato. Spero che il video vi sia piaciuto. Ciao a tutti, bacione!